Verrà consegnato sabato a Umberto Martini il premio Città di Bassano, oggi la comunicazione dei premiati in occasione della festa di San Bassiano, patrono della città I Piedi del Grappa, da parte del sindaco Stefano Cimatti. Competenza e partecipazione nello sport, sociale e dirigenza, le tre caratteristiche che hanno portato a sceglierlo tra una rosa fitta di nome e di spicco per la città. Attuale presidente della Banca di Credito Cooperativo di Romano e Santa Caterina, Martini, bassanese 68 anni, è stato rieletto presidente nazionale del CAI, impegnato nella formazione dei lavoratori immigrati. Premio Cultura Città di Bassano verrà assegnato invece a Natalino Andolfatto, scultore conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, la sua una carriera importante e fiorente iniziata in Francia, dove studiò ed esposa i grandi saloni parigini. I tre premi San Bassiano verranno assegnati per lo sport al gruppo Cosmos, storico sudalizio nato da un gruppo d'amici appassionati di calcio, divenuto punto di forza del centro giovanile bassanese, con cui condivide progetti educativi soprattutto rivolti ai più piccoli. Ad Andrea Minchio per aver saputo divulgare cultura, arte, promuovendo il territorio, titolare assieme alla moglie della casa editrice artistica Bassano. Infine a Suor Giordana Bertoldi per il sociale, per la sua attività legata a progetti di recupero di tossicodipendenti, ma soprattutto sperimentazione nel Bassanese per la crescita di una cultura di cittadinanza attiva. Sabato 18, non domenica 19, la cerimonia di premiazione. Alle 10 la Santa Mesa in Santa Maria in Colle, alle 17 le consegne dei premi alla sala da ponte del centro giovanile.